C'è solo un modo per essere informato sui paesi dell'entroterra siciliano. Magazze.it, cronaca, politica, sport, cultura, eventi. Magazze.it, da voce al cuore della Sicilia. www.magazze.it, il quotidiano online dei Monti Sicani. Inizia male la nuova stagione agonistica del Camara, che cede le armi a Ribera, apparso in buono stato di forma e con una condizione fisica alquanto infidiabile. Alla squadra cammaratese bastavano con pari per qualificarsi al secondo turno di Coppa Italia, che invece accoglie con tanto merito la squadra riberese del sempreverde Vincenzo Montalbano, prestazione sottotono da parte dei biancazzurri, capaci di risollevare una gara che si era messa storta fin dall'inizio, quando gli ospiti amministravano a dovere il match. Le due squadre non vogliono farsi male e nelle prime battute cercano dei barchi necessari per trovare la via del gol. Al quindicentro avanti Marco Di Piazza prova ad impensierire Talluto con un non tiro da fuori che termina di poco alto. Al quindicesimo la gara si sblocca. L'autore del gol è Christian Laspisa, che è l'esto da dei passi a mettere la sfera alle spalle di Vincenzo Pellitteri. Il Camarat non demorde e con Daniele Licastri sfiora per due volte la rete. La prima è frutto di un'ingenità degli greci, che liscia la palla e proprio il bomber biancazzurro calcia debolmente sulle braccia di Talluto. La seconda invece ha il trentanovesimo e la più nilida occasione, ma il tiro per l'ennesima volta è debole. La squadra dei mister Renato Maggio prova in tutti i modi di pareggiare i conti, ma si trova di fronte una difesa riberese alquanto superlativa. Al quarantaduesimo risponde Ribera con Mancino. Il suo tiro si spegne ampiamente a lato. La prima frazione si chiudeva sull'1-0 per la squadra ospite, che ha fatto capire di meritarsi il vantaggio in virtù di quello che ci ha fatto vedere. La ripresa vede il Camarat molto più reattivo e propositivo, anche con l'ingresso di Panepinto, che suona la carica ai suoi. Già al quarantasettesimo il Ribera prova a chiudere la gara con Raimondi. Il suo tiro viene sventato da Vincenzo Pellitteri. Al cinquantunesimo arriva il gol che riapre le retine della partita. Crossi lungo sul secondo palo di Bonito. Panepinto si trova davanti a Talluto e con un guizzo di testa riporta la sua squadra sulla giusta strada. Il Camarat ci crede e prova a ribaltare il risultato. Al cinquantottesimo Daniele Ricasti riesce ad impensare la retroguardia riberese con un tiro, che è centrale e facile preda di Talluto. A questo punto le due squadre non vogliono farsi male e di conseguenza non imbastiscono più azioni degni di nota. Al settantunesimo però arriva la svolta che apre le porte alla rivittoria del Ribera. Mangino viene atterrato e per il signor Madonia di Palermo è penalti. Dagli undici metri si incarica lo stesso Mangino, che realizza con freddezza spiazzando il nuovo entrato Nicola Maggio. Il Camarat a questo punto inizia a pressare sull'acceleratore. Mister Renato Maggio invece scuote i suoi. Quanto meno te l'aspetti, arriva il gol al settantanovesimo del pari, che riapre le sorti del match per la compagine cammaratese. Il bomber Privitera batte una punizione dallo stesso procurata e con un raso terra preciso batte l'incorpevole Musca Nera. È 2-2 e il Camarat ci crede. All'ottantaquattresimo l'episodio chiave che cambia il volto della partita. Su un sospetto fuorigioco viene annullato il gol a Canfarotta, che porterebbe la squadra di casa sulla giusta via. Dopo di ciò nulla di fatto. Il Ribera chiude definitivamente la pratica portandosi sul 3-2, grazie a Mangino che realizza dopo una ribattuta di maggio. Finisce la gara e il Camarat perde il treno del secondo turno di Coppa. La squadra di Vincenzo Montalpano invece continua l'avventura. Fra tre giorni inizia il campionato e sarà il destino a mettere di fronte due squadre brazonate come il Camarat e l'Agragas. Staremo a vedere. Bella prestazione oggi del Ribera che batte il Camarat e passa al turno successivo. Sicuramente oggi abbiamo fatto quello che il mister ci chiedeva in settimana. Una partita molto dirigente, abbiamo rispettato il Camarat, abbiamo giocato sugli esterni e sapevamo che loro ci potevano concedere qualcosina di più. Tutto insomma è andato tutto bene. Quali le cose positive e quali quelle negative? Le cose positive, quando si vince ce ne sono tante di cose positive. Le cose negative che ho visto sono pochine. L'unico problema è che siamo una squadra giovane e di conseguenza dobbiamo crescere giorno dopo giorno lavorando perché il nostro obiettivo è la salvezza. Già da domenica inizia il campionato e l'impegno difficile per Ribera si va a Licata. Domenica abbiamo una brutta bestia. Diciamo che abbiamo la squadra più attrezzata del torneo. Però noi andiamo a giocarci da viso aperto senza nessun problema, rispettando l'avversario perché non abbiamo nulla da perdere. Bastava oggi un pareggio per il Camarat per passare il turno, invece il Ribera fa solo la gara. Sì, bastava un pareggio 0-0 perché poi con l'1-1 si andava avanti, con il 2-2 passavano loro. Non è stato il Camarat che abbiamo visto sempre, anche se devo dire che Licastri nel primo tempo ha avuto due belle occasioni, un'altra nel secondo tempo. E' andata così, anche l'anno scorso in Coppa avevamo iniziato Maluccio e poi abbiamo fatto un gran campionato. Speriamo che per consolarci la storia si ripeta. C'è tanta amarezza ma già da domenica il campionato aprirà i battenti e arriva l'Agragas all'ESNE. Sì, ma l'amarezza sì per la sconfitta, è chiaro che anche alla Coppa noi tenevamo. Però il campionato è tutta un'altra cosa, credo che vedremo un Camarat completamente diverso. Al di là di chi ha giocato o di chi non ha giocato, io penso che il Camarat che vedremo in campionato sarà un Camarat che sarà completamente diverso da quello di oggi. Certo, l'Agragas ha allestito una gran bella formazione, una squadra forte, ma come tu sai noi ce la giochiamo sempre rispettando l'avversario ovviamente, anche perché lo merita, ma senza nessuna paura. Ce la giocheremo ad armi pare per vincerla. Arriva la prima sconfitta per il Camarat, cosa è mancato oggi? Ah niente, sicuramente è mancato un pochettino di convinzione in più. I ragazzi erano un pochettino contratti, però tutto sommato abbiamo perso la partita. Non facciamo drammi, non ci interessa di più il campionato, abbiamo snobbato la Coppa, però abbiamo perso, però ora guardiamo con fiducia il campionato. Già da domenica il campionato aprirà i battenti, arriva l'Agragas, cosa serve per batterla? Ci vuole grande umiltà, ci vuole grande forza di volontà, perché incontriamo una grossa squadra, l'Agragas ha fatto una grossa squadra, speriamo di fare bene, perché iniziare bene è segno di un buon campionato. Quali obiettivi si pone il nuovo Camarat? Il nuovo Camarat ha cambiato tantissimo, ci sono 11 giocatori nuovi da cui molti giovani, speriamo di fare una tranquilla salvezza e fare un buonissimo campionato. Arriva l'animazione dalla Coppa, ma sicuramente c'è tanta amarezza. No, no, amarezza no, perché i ragazzi hanno giocato benissimo, abbiamo incontrato una squadra organizzata che ha fatto bene, alla pari di noi, è chiaro che il risultato finale 3-2 ci può stare come non ci poteva stare, però è chiaro che l'eliminazione ci sta tutta e la qualificazione del Ribera pure. Sicuramente oggi abbiamo visto un buon Ribera. Un buon Ribera e anche un discreto Camarat, in funzione che ci sono due o tre elementi nuovi, è chiaro che io ho dato la possibilità, a prescindere la partita di Coppa, di giocare di fronte al pubblico amico. Si sono comportati benino e è chiaro che mi daranno più indicazioni più in là. Già da domenica arriva l'Akragas, cosa promette ai tifosi? Prometto, noi promettiamo sempre grande impegno e grande determinazione. È chiaro che incontriamo una squadra forte, buona organizzata, allenata da un buon allenatore, che è Pinola Bianca e è chiaro che quest'anno penso che l'Akragas darà la sua nell'arco del campionato. Cosa serve per battere la squadra di Pinola Bianca? Ma guarda, io non mi creo mai problemi di battere la squadra di Pinola Bianca o la squadra di Bellomo. Io guardo sempre le mie squadre e mi auguro che la mia squadra gioca a calcio per come sa, per come mi dico e poi se incontriamo una squadra più organizzata e più brava non c'è niente da fare.